è loro ormai mamma mia per chi la sta scoprendo per chi la scoprirà cazzo vero dai capisciano quindi senza faccia contro Diddy Kong incredibili senza faccia ah ma la partita tra due siring molto alti per il tornare di oggi intanto ti fa un sistema un attimo qui va via non so che stavi perché stavi toccandoli allora io mi aspetto almeno un paio di stock rubate con una stellina con tre barini non so perché ho proprio questo sentimento allora partiamo dal presupposto che l'unico matchup favorevole che ha il miss warfighter perde il vantaggio in fase di selection screen quello è quello del primo step ma c'è mi spara ah secondo step è assolutamente chiaramente posso parlare in depth di un personaggio bella nero un ottimo un ottimo da un b che più o meno è un check per controllare se sei attento ma è infunibile salve signori sono io spettro fotometro sono spettro fotometro di mario go kart mario go kart mario go kart avvicino ai pc voglio vedere voglio vedere la chat è sempre la parte migliore la chat e power trust per qualche motivo so come cazzo si chiama quella da un voglio far danni la chat per vedere la chat si la chat e viva metto la scusa mia così mi copre tutto lo schermo la metto in maniera tale che vabbè intanto commenta il match allora vediamo mi spada mi spada di fede 9 e perchè 6 più 4 fa 10 e quindi 9 e quindi tipo what the fuck cerca le conferme della storia la necessità di specificare i pronomi è che la gente se vuole farlo sapere lo fa sapere non è un problema e l'overlay li prende direttamente da start.gg si quindi non è un problema per nessuno e sapere i pronomi della gente e tanto con uno con un bel confirm banana into action c'è il più classico dei ma lo shuriken lo shuriken la pressure guarda guarda quanto preme il pulsante è pressure ma infatti shuriken è più a distanza percorre è più a notte da vicino non ha proprio notte no infatti è un po triste questo è anche utilizzato per già presentare fede con la FB sbagliata mamma mia tu sei sbagliato raaaa ma ora ecco Sam guarda Sam guarda che roba con quella FB lo sbignadero cerca il la banana il tool fondamentale ma che cazzo fa la migliore FB del gioco la migliore FB del gioco dicono le tanti l'opzione è folle l'opzione è fazza guarda cosa fa Sam on fire c'ha la banana fermi tutti fermi tutti è morto è vivo è ancora vivo ce l'ha non è ancora condannato è morto è morto è morto fede 9000 si è beccato il controllo i nomi di fede sono i i i ah perchè quello di Crash of royale crash royale i i i i ah i slash i slash ah è un gioco divertente ha fatto il gioco ha fatto il gioco ha fatto il gioco si comunque fa un culo le frodi le frodi le frodi no chi ha detto Alex Marsella no 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 Alex no Alex Alex Marsella ci devi un play vorrei questo commentere il mio matrimonio si si la vado lascia qui qua grazie tanto vediamo come sta iniziando sta iniziando a connettere qualcosa anche se la fail e sta continuando a procedere con la fail che è il più classico del 2 power trust power trust wow una fail la spanish splinter si ci sta quella fail poi è molto checo onestamente no che non userei mai perchè non mi ci trovo però però capisco l'utilizzo effettivamente eeeh quella fail è una ragazza che si fida di voi come fede si fida del little spin di Mr Fighter questa fiducia incondizionata Sam che lancia le noccioline cerca che ti le trova eeeh 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 la top moss è morto no...è ancora vivo è morto è vivo è morto e vivo è morto è morto è morto è morto è morto era della banana è morto è morto aaaaaah o always o zumindest fermi tutti fermi tutti è proprio come il personaggio di la epona è proprio like epona oah E��� xin Boy che diventa fanboy ragazzi qui c'è da cercare vediamo vediamo quanto sono che regione attenzione apro apro google sto cercando auga i mort auga i mort ragazzi un attimino sono ancora cinca sto ancora cercando cercato su inter i am 29 per cent gay premi tutti appena aperto google sto cercando persone che usano i rospini subito il fighter nessun risultato trovato fermi tutti f trono lucide 165 fede o è morto ce la può ancora fare io ci credo finché non vedo la schermata schermata di fine partita io l'ho tende da di ecco come finisce questo stock mio dio è al quasi al 30 nooo io ancora non ci credo fermi tutti io non c'è ancora il risultato non c'è ancora il risultato non c'è ancora il risultato smetti di crederci ha vinto Sam va bene ha vinto what the fuck non me ne frega continua a tenere sword fighter e anche Sam continua a tenere sword fighter grandissimo Sam avremo un ditto misur fighter ragazze non vuoi vedere non vuoi vedere già mezz'ora di approccio di downfield no ci ha metto in chat su casu 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 cosa mi asso che costate più dola più come avvi Beautiful dear' Rio la maggiore 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 fulia regioni in cui abbiamo mi gusta una toscana regia dovrebbe земlinFL no credo è una toscana implica l'esistenza di due toscana merda Fede 64 è il 64esimo, Fede Ma se... Ma se Fede 64 è così bravo Perché non hanno fatto Fede 94 Non dico che è così vecchio Si Ecco, è un marco 17 Tipo, è l'età È l'età che porta Fede ha 64 anni No way, sono un uomo di roccia o qualcosa del genere Giorgio Non mi taglio di Giorgio È un riferimento a Giorgio È un riferimento di Giorgio Oh mio Dio Giorgio Lion VGF Oh mio Dio Sam che stava per subire Ma ora non subisce più Ora è lui a far subire Fede sta cucinando Gli hanno staccato il gas ma lui aveva portato un fornello da casa Ce l'ha Ci servirebbe qua perché ci hanno tolto in menù ganza da mangiare Guarda Fede con questi mix up La copa and grab Hero spin L'euro spin Ma che cazzo fa? Ma che cazzo fa? Ma mi ha lasciato in avanti Ma perché la grab? Ma porca putt Era la volta buona che potevi usare hero spin Tipo Ah cazzo Fede che cerca di mix upare il recupero Vuole passare da sotto in uno specifico della loser bracket Sam boy Io ho fiducia Era buffo Era buffo per con lo sa Gabri Sam boy Che approfitta dello scarso livello intellettuale Di Ma è vero 64 che sta per il funzionario delettivo L'abbiamo veramente servato il 64 Fede 64 e più Ed abbiamo in bracket uno che si chiama Tenna EQ player E' vero Finalmente abbiamo abbastanza brain power Per capire chi cazzo giocherebbe Il cazzo di lo spin su Mr. Fighter C'è Fede che sta giocando bene Perché poi è innegabile Però non riesce a prendere le stock Mentre Sam Ma quello non è colpa sua È colpa di No E' tanto Non per Sam boy Sam Skilly Shwato Attenzione Attenzione Ha ucciso Fermi tutti E' ucciso Fede ha ucciso Appena il committatore dice Che uno non uccide Uccide La caster curse La caster kill Nel senso che è un mazzo No Fermo Fermatemi Sono pazzo E' cre... Folle Folle Sei un folle Freezer Sei un freezer folle Sei un freezer folle Io ho il mio freezer Haha Sam Guarda che combo Che conversioni Io sono convertito Qua scappa L'altro che conversioni Fermi tutti Bello Bellissimo Cosa fa Fede è impazzito Sam Non si muove Nessuno gli dica Dalla regia Che può fare Affare Let's go Fermi tutti Fermi tutti Abbattuto le allegation Che il miser fighter Non può uccidere Ce l'ha fatta Mi spada killato Raga Al 150 Se stesso Sam Che ha una stock Dalla vittoria del set Che vorrei che non finisse In tutto ne sta Ma Potremmo capire Regolamento best Inciampa Ce l'ha Ce l'ha Ce l'ha Ce l'ha Fermi tutti Guarda che combo Io trasto Fede Fede Perché Ha ucciso È even È even Ragazzi È even È uno spin È even Non volevo Volevano farlo Chi cazzo È even Fede Aiuto Aiuto Fermi tutti Fermi tutti Sette al card palma Sette al card palma 2024 Raga Uuuu